Un'autovettura prodotta tra Calabria e Puglia con l'obiettivo di rilanciare l'occupazione attraverso un investimento di circa 90 milioni di euro, a cui si aggiunge una somma di pari importo per la fase di ricerca che è già stata completata. Almeno 400 le unità lavorative per la Calabria nel primo anno e fino ad un obiettivo di circa 800 unità dopo la fase di lancio. L'iniziativa imprenditoriale è stata illustrata a Catanzaro dopo la presentazione ufficiale avvenute in Puglia, alla presenza del presidente della regione Mario Liverio, del rappresentante della società investitrice americana e dei rappresentanti di Invitalia. La rientressata sarà quella di Gioia Tauro, dove la regione ha concesso il capannone della Exi Sotta Fraschini, pari a 26 mila metri quadri, con la possibilità di raddoppiare gli spazi a disposizione. È qui che l'auto sarà realizzata e assemblata, mentre nello stabilimento di Modugno, in provincia di Bari, saranno realizzate la scocca e altre componenti che poi raggiungeranno la Calabria per la fase finale. Per l'aspetto lavorativo, meno della metà del personale arriverà dal bacino dei cassi integrati, mentre il resto sarà composto da nuove assunzioni.